Ciao a tutti, il motivo che vi presento oggi è questo motivo traforato. Come vedete troviamo dei piccoli rombi che vanno a formare una sorta di linea a zigzag. È un motivo che è ricco, come vedete, di gettati e quindi diciamo che non lo consiglio propriamente alle principianti, perché ovviamente avendo i gettati è un rischio sul rovescio del lavoro perdere qualche maglia. Però, come dico sempre, è bene gettarsi e altrimenti non si impara. Allora, vi faccio vedere come si presenta sul davanti. E come si presenta sul dietro. Allora, i ferri di ritorno o ferri pari, le maglie vengono lavorate tutte a rovescio, quindi è abbastanza semplice. Per quanto riguarda invece il davanti, Allora, noi per il motivo andiamo a montare un multiplo di 12 maglie più 2 più 1 Quindi monteremo sul ferro 12 12 12 12 12 12 più 2 maglie di bordino, diciamo, più 1 alla fine, quindi 2 iniziali e 1 alla fine. Quelle che noi andremo poi a ripetere saranno queste 12 maglie. A queste maglie io vado ad aggiungere ovviamente il vivagno, quindi 2 e 2 sono 4, quindi 4 maglie di vivagno per lato che vanno a formare ovviamente il bordino. Per quanto riguarda invece l'altezza, il motivo si realizza in 24 ferri. In questo caso io ne ho fatti 2, quindi abbiamo 1 e 2. Allora, è un motivo che si presta a vari progetti. Lo possiamo utilizzare per delle copertine, per delle sciarpe, per delle stole, per dei vestitini estivi, per dei copricostume, per cardigan, maglie estive, eccetera. Andiamo adesso a vedere come si realizza. Ho montato sul ferro un totale di 43 maglie, perché vado a fare 3 motivi, quindi 12 più 12 più 12 più 2 più 1, più le 4 di vivagno che ovviamente andranno a formare il bordino. Partiamo dal primo ferro e andiamo insieme a fare un solo motivo. Primo ferro, vivagno, vi lascio qui sopra il link che vi riporta come fare il vivagno, due diritti, 1 e 2. Andiamo adesso a ripetere il motivo centrale. Tre diritti, 1, 2, 3. Un gettato, una diminuzione semplice. Spostiamo una maglia sul ferro di destra senza lavorare, lavoriamo la seconda maglia diritto e accavalliamo la prima sopra la seconda. Quattro diritti, 1, 2, 3, 4, un gettato, una diminuzione semplice, un diritto. Andiamo a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con un diritto e il vivagno. Secondo ferro, vivagno, tutte le maglie a rovescio, fino alla fine del ferro. Terzo ferro, vivagno, un gettato, una diminuzione semplice. Vado a ripetere adesso il motivo centrale. Un diritto, due maglie insieme a diritto, un gettato, un diritto, un gettato, una diminuzione semplice, quattro diritti, uno, due, tre, quattro, un gettato, due maglie insieme a diritto. Andiamo a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con un diritto e il vivagno, e il vivagno. Quarto ferro, tutte le maglie a rovescio, quinto ferro, vivagno, un diritto, un gettato. vado adesso a ripetere quello che è il motivo centrale. Allora, andiamo a lavorare praticamente una diminuzione doppia. Passiamo una maglia senza lavorare sul ferro di destra. Lavoriamo due maglie insieme a diritto e accavalliamo la prima sopra la seconda, in questo modo. Un gettato, tre diritti, uno, due, tre. Un gettato, due maglie insieme a diritto, quattro diritti, uno, due, tre, quattro, un gettato. Andiamo a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con due maglie insieme a diritto e il vivagno. Sesto ferro, tutte le maglie a rovescio. Settimo ferro, vivagno, due diritti, uno e due. Vado a ripetere il motivo centrale. Un gettato, una diminuzione semplice, quattro diritti, uno, due, tre, quattro. un gettato, una diminuzione semplice, quattro diritti, uno, due, tre, e quattro. Andiamo a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con un diritto e il vivagno. Ottavo ferro, tutte le maglie a rovescio, nono ferro, vivagno, due diritti, uno e due. vado adesso a ripetere il motivo centrale. Un diritto, un gettato, una diminuzione semplice. Un diritto, due maglie insieme a diritto, un gettato, un diritto, un gettato, una diminuzione semplice. Tre diritti, uno, due, e tre. Andiamo a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con un diritto e il vivagno. Decimo ferro, tutte le maglie a rovescio. undicesimo ferro, vivagno, due diritti. Vado adesso a ripetere il motivo centrale. Due diritti, un gettato, tre maglie insieme a diritto, un gettato, tre diritti, uno, due, tre. Un gettato, una diminuzione semplice, due diritti. Andiamo a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con un diritto e il vivagno. dodicesimo ferro, tutte le maglie a rovescio. Tredicesimo ferro, vivagno, due diritti. vado a ripetere il motivo centrale, due diritti, due maglie insieme a diritto, un gettato, cinque diritti, uno, due, tre, quattro, cinque. Un gettato, una diminuzione semplice, una diminuzione semplice, un diritto. Andiamo a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con un diritto e il vivagno. quattordicesimo ferro, tutte le maglie a rovescio. Quindicesimo ferro, vivagno, due diritti. Vado a ripetere il motivo centrale, un diritto, due maglie insieme a diritto, un gettato, un diritto, un gettato, una diminuzione semplice, un diritto, due maglie insieme a diritto, un gettato, tre diritti, uno, due e tre. Andiamo a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con un diritto e il vivagno. sedicesimo ferro, tutte le maglie a rovescio, diciassettesimo ferro, vivagno, due diritti, vado a ripetere il motivo centrale, due maglie insieme a diritto, un gettato, tre diritti, uno, due, tre. un gettato, un gettato, tre maglie insieme a diritto, un gettato, quattro diritti, uno, due, tre, quattro. Ripetiamo questo motivo, chiudo il ferro con un diritto e il vivagno. Diciottesimo ferro, tutte le maglie a rovescio, diciannovesimo ferro, divagno, un diritto, due maglie insieme a diritto. Vado adesso a ripetere il motivo centrale, un gettato, quattro diritti, uno, due, tre, quattro. Due maglie insieme a diritto, un gettato, quattro diritti, uno, due, tre, quattro. Due maglie insieme a diritto. Andiamo a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con un gettato e il vivagno. Ventesimo ferro, tutte le maglie a rovescio. Ventunesimo ferro, vivagno, vivagno, due maglie insieme a diritto, un gettato. Vado a ripetere il motivo centrale, un diritto, un gettato, una diminuzione semplice, un diritto, due maglie insieme a diritto, un gettato, quattro diritti, uno, due, tre, quattro. Due maglie insieme a diritto, un gettato. andiamo a ripetere questo motivo. Andiamo a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con un diritto e il vivagno. ventiduesimo ferro, tutte le maglie a rovescio. Ventitresimo ferro, vivagno, due diritti. vado adesso a ripetere il motivo centrale, due diritti, un gettato, una diminuzione doppia. Sposto una maglia sul ferro di destra senza lavorare, lavoriamo due maglie insieme a diritto e accavalliamo la prima sopra la seconda. Un gettato, quattro diritti, uno, due, tre, quattro. Due maglie insieme a diritto, un gettato e un diritto. Andiamo a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con un diritto e il vivagno. ventiquattresimo e ultimo ferro, tutte le maglie a rovescio. Allora, come potete vedere, il motivo è praticamente terminato. Per ripeterlo, non dobbiamo far altro che ripetere i ferri dal numero uno al numero ventiquattro. Il video è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!